Un uomo di circa 20 anni, completamente vestito di nero e con la barba lunga, ha aperto il fuoco alle 23.15 locali, da noi più o meno erano le 8.15, al Borderline Bar & Grill di Thousand Oaks, a circa 60 km da Los Angeles, in California. Il locale è molto frequentato soprattutto dagli studenti della vicina Università Luterana, alcuni di loro sono riusciti a fuggire, li vedete in queste immagini che arrivano in diretta dagli Stati Uniti. Non ho visto molto perché è stato tutto molto veloce, tutto quello che ho visto è quando si è cominciato a sparare, io mi sono nascosta sotto degli sgabelli. La mia amica ha visto di più perché io ero sotto gli sgabelli, ha visto dei lampi e tutti hanno cominciato a dire di correre via, sono scappata nel parcheggio vicino alla mia macchina. I numeri sono ancora incerti. Secondo fonti di polizia locale non ancora ufficiali, riportati dall'emittente americana ABC, ci sarebbero decini di feriti. La persona che tiene in ostaggio il locale si sarebbe fatta largo con dei fumogeni per creare il panico e poi avrebbe sparato una trentina di colpi con un'arma automatica. E' stato coinvolto il reparto SWOT e le forze speciali destinate a compiti ad alto rischio. Molte delle persone che si trovavano nel locale si sono chiuse nei bagni per trovare riparo dai proiettili. Feriti che sono riusciti ad allontanarsi sono stati soccorsi dalle ambulanze e portati alle strutture ospedaliere più vicine.